Andiamo ora a presentare la classica Dream Maker Deluxe, 13 piedi, 3 libere e mezza. Canna fatta artigianalmente, classici colori Rodachinson, ricordano appunto il vecchio modello di Dream Maker volutamente. Un design quindi un po' retro, ma che piace ancora molto e raccoglie ancora una nicchia di clientela molto importante. Andiamo ora invece a vedere la versione Limited Edition, nella colorazione Royal Red, scelta in questo caso. Canna completamente fatta a mano, anche questa. Vedete le legature che riportano appunto la colorazione scelta. In questo caso, nella versione Limited Edition, vediamo un anello sempre Fuji Seek, ma K-Series, completamente in lega di titanio, leggerissimo. E che aiuta di molto la fase di lancio. Grazie per la visione!